pronti per un nuovo appuntamento milionario è il momento dell'estrazione di euro jackpot un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento fisso con l'estrazione di euro jackpot prima di dedicarci all'estrazione di oggi vi raccontiamo di un'idea alquanto originale in germania un'azienda ha pensato di trasformare gli auricolari wireless in un gioiello come fossero un vero e proprio orecchino con tanto di perla e chiusura in oro o argento si collegano allo smartphone tramite bluetooth e assicurano un basso consumo energetico un dettaglio di stile decisamente pregiato come l'estrazione di euro jackpot di oggi siamo lieti di annunciarvi che il jackpot ha raggiunto il valore massimo ben 120 milioni di euro immergiamoci ora nell'atmosfera calda dell'estrazione nella sala delle urne le operazioni sono iniziate la prima urna elettronica è stata caricata le 50 sfere numerate sono pronte per il mescolamento automatico e l'estrazione il primo numero della nuova combinazione vincente di euro jackpot viene estratto ora il primo numero è 47 ecco il secondo numero di questa sera il secondo estratto è il numero 41 siamo ora al terzo estratto ed è il numero 9 quarto numero di questa estrazione eccolo è il numero 26 siamo arrivati alla quinta sfera estratta che potrebbe assegnare vincite milionari sia associata ai due euro numeri il quinto numero estratto è 12 è giunto il momento dell'estrazione dei due euro numeri che potrebbero assegnare il jackpot in palio questa sera abbiamo il primo euro numero della nuova combinazione vincente di euro jackpot è il numero 10 il secondo euro numero completa la combinazione di euro jackpot di questa sera il secondo euro numero è 7 controlliamo ora la combinazione vincente 9 12 26 41 47 i due euro numeri sono 7 e 10 controlliamo i risultati di questa estrazione e le quote di tutte le categorie di vincita questa sera non è stato realizzato il 5 più 2 ma sono state numerosissime le vincite sia in italia che in europa molti giocatori sono stati premiati con vincite straordinarie se non è toccato a voi non perdete la speranza la prossima estrazione sarà venerdì continuate a seguire i canali euro jackpot per sapere dove sono state realizzate le vincite ma non è tutto oggi infatti è anche il giorno di un'altra grande estrazione quella di super enalotto la caccia al jackpot milionario prosegue venerdì prossimo il jackpot in palio sarà pari a 120 milioni di euro siete pronti a giocare la vostra combinazione con soli i due euro venerdì prossimo scopriremo i nuovi numeri vincenti vi aspettiamo